Parker e Chester hanno trovato questo mostro orribile, questo mostro gli si avvicina a loro ed è molto pauroso e pericoloso, questo è un nuovo mistero per Parker e Chester, chissà se riusciranno a risolverlo. Questo video è stato registrato sul canale Life of Luxury e praticamente ci sono questi ragazzi che stanno andando da questa donna, che praticamente il suo figlio si sta comportando in modo molto inquietante e strano. E dice che non ha senso tutto ciò, loro parlano ovviamente fra di loro, si stanno facendo le loro teorie giustamente, nessuno ha idea di che caspita sta succedendo in quella casa, dicono che potrebbero anche andare in terapia ad esempio, però per un qualche motivo la signora ha deciso invece di non proseguire la strada della terapia. Come vedete la strada è molto inquietante, è chiaramente un posto misterioso questo, non sappiamo che cosa stiamo andando a vedere, quindi mi raccomando restiamo qui a vedere che cosa succede perché questi ragazzi avvistano sempre cose molto inquietanti. Vabbè adesso dicono che potrebbe essere tutta una perdita di tempo, ma secondo me stanno per entrare, il che è abbastanza inquietante, porca puzzarda non entrate. Oddio raga, c'è rumore strano. Vedete la signora è strana, dice sì, vedete un pochino fa poca reazione, cioè non è che abbia una reazione chissà quanto grande, no? Dice noi possiamo entrare dentro casa, no? E lei sembra quasi non rispondere, dice è a casa tuo figlio per caso? E lei si gira così, guardate, qual è il suo problema? Cioè assicuramente, si vede che ha qualcosa che non va. Io avrei chiamato uno psicologo qui, come minimo, perché c'è qualcosa di strano in questa signora. Allora dice grazie per aver seduto con noi, più o meno. Allora, mio figlio è colpa mia, cosa è successo signora? Dice che avrebbe dovuto far qualcosa prima, ma che cosa è successo? Cosa è che ha scatenato questa emozione evidentemente negativa in lei? Scusate, sto facendo dirlo psicologo. Dice che il mio ragazzo non sta più parlando con me, cioè il suo figlio intende. Quando è che è iniziata questa cosa strana? Dopo che il suo marito è morto, oh mio Dio, quindi il suo marito è morto e Tommy, il figlio, ha iniziato a comportarsi in modo molto strano. Non saprei che cosa pensare di questa povera famiglia, mi dispiace molto sicuramente. Deve essere sicuramente una situazione brutta come minimo. Però qua non sentite niente. Beh. Yo. Oi. Dice che non è più il suo Tommy che cambia maschera in qualche modo, che non so esattamente cosa voglia dire. Dice, sei sicuro che non è qualcosa di grieving, che non so cosa voglia dire, però dice che è fisico, cioè che quindi è fisico. Anche le sue ostasi sono completamente, non sono più normali comunque, cioè dice che ama tanto suo figlio, però è completamente cambiato, tantissimo. Il che è molto strano, ricordiamoci che queste entità, che queste creature possono anche possedere tutti noi. Vediamo però, andiamo avanti a capire che cosa succede qui in questa famiglia, che mi dispiace anche molto che stiamo vivendo questa situazione molto brutta. Chester e lui invece adesso vanno a vedere Tommy, dice. Credo che c'è un modo, non ho capito. Dice, basta che non dite niente. Ha detto, ok, dov'è la sua stanza? È sopra. Ok, andiamo. Andiamo a vedere che cosa succede. Secondo me sta per succedere qualcosa di molto brutto. Dice, andiamo a parlare con Tommy. Eh ma, non so se è una buona idea, eh. Però, ormai che siete qua, fatelo. Tanto, ormai che caspita ve ne frega. Ehi Tommy. Sto per aprire la porta. Tutto bene? Tommy. Siamo amici con tua madre, dice lui. Però io già qui me ne sarei scappato via. No, 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 non far così. Dice, piccolo soldino nella tasca. Canta. In che senso? No, raga. Posso fare una battuta strana? La mamma, perché non vai a giocare col figlio del vicino? Il figlio del vicino! No, scherzo, scherzo. Perché non parli col compagno di classe? Il compagno di classe. Possiamo parlare faccia a faccia, dice. E lui dice, sì, certo che possiamo parlare. L'unico problema è che non è proprio normale. Allora, o chiamate, non so, qualche esorcista. A sto punto. Vabbè, se volete parlare di più, Chester e io siamo qui tutta la notte. E lui chiude la porta. Fai bene a chiuderla. Prima che ti ammazzi. Perché sappiamo che queste entità non sono proprio normali. Dice, hai visto la sua faccia? Che caspita è? Dice, perché sta indossando una maschera? Non ne ho idea. Allora, stanno per mettere delle telecamere in giro per le stanze. Io non lo farei se fosse... Cioè, no, no, no. In realtà lo farei, scherzavo. Però le nasconderei bene, perché... Sappiamo che... Cioè, non è che sono stupide le entità, no? Cioè, ci vedono. Quindi, cercate di nasconderle bene, no? Ecco, così non è nascosto bene. Poi, in bagno. I caspita le metti in bagno, scusami, eh. Pure tu. Dice... Dice che puzza in quella stanza. Cos'è? È tipo carne, ha detto. Oh! Oh! No, no, no. Ma si muove! Oh, mio Dio! La carne si è mossa! Ma come ha fatto? Era morta. E lui non ci crede, giustamente. Che cosa sta dicendo? Mmm... Ha detto che sta per mettere la telecamera nella stanza di Tommy. Ah, no, aspetta. Nella stanza della mamma, scherzavo. Però, insomma, possiamo mettere la telecamera nella tua stanza. Lei, completamente strana, come al solito. Gliene frega un cavolo. Ma fate quello che volete. Basta che mi ridate il mio Tommy. Povera donna, mi dispiace molto. Dice che... Non sono sicura che a lui piacerà. Ma guarda, nemmeno a me... Cioè... Nemmeno a me piacerebbe. Figuriamoci a Tommy, che non sembra proprio normale. Dice, potrebbe farlo arrabbiare. Non voglio che si arrabbi, perché poi... Mmm... Possiamo capire cosa succede dopo. Però, vediamo. Magari non abbiamo capito niente, in realtà. Cioè, io non ho mai visto questo video. Non so che cosa potrebbe succedere. Però ho paura. Dice, ok. Ok, mi spiace. Cioè... Andiamo... Vabbè. Adesso andremo a monitorare tutte le telecamere. Monitoratele. Ah, dice che si sono sentiti in modo strano quando ha parlato con Tommy. Che è stato anche molto inquietante, Tommy. Ebbè, direi, cacchio. Hai visto? Non vorrei dormire. Dice, guarda. Ebbè, giustamente. Ma nemmeno io guardo. Cioè, ti immagini? Dormire in questa stanza con uno che... Ha della carne in camera sua. Cioè... Non lo farei. Di base non lo farei. E poi, soprattutto, non vestito. Che caspita. Vabbè. Prenditi un pigiama. Vabbè. Fai quello che ti pare. Vabbè. Dice che siamo andati a dormire. Però poi dopo... Cosa è successo? Mmm. Vedete quante ansiogene... Eh, questo è Tommy. Questo è brutto Tommy. Cioè, scusami. Il brutto è il suo soprannome. Accidenti. Vi immaginate lui a scuola? Io non me lo immagino a scuola. Mi spiace. Perché credo che sarebbe traumatizzante. Non... Raga. Raga, cosa... Diciamo che ha gli incubi. Ok. Facciamo finta che abbia gli incubi. Dice... Giusto per non spaventarci. Raga. Cosa sta succedendo, raga? Ma... Allora, a parte Tommy. Ma avete visto la madre? Oh mio Dio. Come ha fatto ad allungarsi le gambe ulteriormente? Già ce le aveva lunghe. Ma raga... Cioè, la madre non sembra strana. Guardatela da qua. Guardate la madre. Che cos'è che ha? Cioè, questa madre è sempre più strana. Adesso vedi che... È tutta colpa sua. Magari ha fatto un incantesimo magico con... Azazet. Che è tipo un demone. Credo. Oh mio Dio, no! Oh mio Dio, cosa sta... Cosa sta facendo? No, 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 no. Ti prego. No, 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 no. Porca puzze. Cosa... No, no, no. Tommy sta... Sta mangiando quella carne. Sta mangiando quella carne. Sono le 2.18 di notte e si sta spostando. Oh mio Dio. No, voi non vedete, però... Ora vedete. Guardate qui, guardate. Ok, rieccomi. Porca puzzata. Che paura che mi fa venire tutto ciò. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ma scusa, ma Tommy non toglie le telecamere? Strano, perché comunque ha guardato la telecamera prima. Si è accorta. Si è accorto che c'erano le telecamere. Oh no, 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 no. Dove stai andando? Tommy, ti prego, non fare niente che possa danneggiare qualcuno. Tommy, stai buono. Tommy! No, no, non entrare. Quella è la stanza di sua madre. Accidenti, guardate che brutto e lungo che è. Non sto dicendo che... Cioè, sto dicendo che lui è brutto perché è incredibilmente lungo, no? Cosa sta facendo? Oh mio Dio, no! No, 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 no. Vomito. No. No, 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 no. Raga, per favore. No, 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 no. Cosa sta succedendo? Ecco perché la madre è strana. Avete capito perché la madre... Io ho capito perché la madre è strana. È tutta colpa di... Non ci sta guardando. Fate finta di non vederlo. Mio Dio. Sono le 7.18 di mattina. Io... Non so se avete notato, ma io mi sto nascondendo dietro il microfono perché c'ho una paura. Ma una di quelle paure che proprio mi sto scagando addosso, tipo battuto. Comunque dice che sono le 7 di mattina e adesso... Dice... Hai sentito qualcosa la scorsa notte? Tipo un bambino. Cosa? Vabbè, dice che stanno andando a guardare i filmati, quelli che hanno registrato. E forse è meglio che non li vediate perché potreste traumatizzarvi. Però questo è un consiglio che vi do spassionatamente, non è che dovete sentirmi. La madre, giustamente, è lì che è poverina ormai e... Cos'è che ha... Signora? Poverina, guardate, gli sta proprio... Secondo me gli sta risucchiando... Io ho una teoria. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria, ma secondo me gli stava succhiando completamente l'energia vitale. Perché avete visto prima che gli aveva messo quella cosa... Tipo nel collo. Adesso è ancora più stanca, si vede, povera signora. Mi dispiace molto. No, non riesci nemmeno a stare in piedi. Parker, vieni qua. Cosa c'è che non va? Candace? Candace è il suo nome. Dice che c'è un segno sul suo retro. Dice sto bene, non c'è niente che non vada. Vabbè, insomma, signora, questa cosa non mi sembra in realtà. Mi sembra che stia andando tutto quanto male, purtroppo. Soprattutto che lei non stia bene, perché ha bisogno di una cavola di sedia a rotelle, perché Tommy gli ha succhiato il collo. Le sembra normale tutto ciò? Perché... Vabbè, scusate. È che mi sembrava strano dover dire che Tommy gli ha succhiato il collo. Dice che Tommy non stava dormendo molto la scorsa notte. E poi ha fatto questo. E lei è ovviamente sconvolta, poverina. No, no, no. Come che reagisce adesso, quando vede... Oh mio Dio, poverina, mi dispiace. È completamente sconvolta. Dice che non è normale che bisogna chiamare la polizia. Non so se la polizia, il medico, il prete, il veterinario, non so cosa si chiama in questi casi. Però qualcosa si dovrà chiamare. Non lo so, nel dubbio facciamo la task force degli Stati Uniti d'America. Fate così, fate quello. Basta che chiamate qualcuno, per carità. Dice no, no, perché non lo capirebbero. Non capirebbero Tommy. Capisco. Dice che ci parleremo noi. Però lei dice, no, non fatelo. Vabbè, insomma, credo che non lo facciano. Non so perché non voglia chiamare la polizia. Perché gli stava succhiando la spina dorsale come una mosca, tipo. Noi dobbiamo uscircene da qui. Però questa signora ha bisogno di aiuto, dice giustamente. Dovano stare almeno un'altra notte. Dice, stiamo qui, non abbiamo altra scelta. Mi sembra giusto, Parker. Per quanto tu mi stia simpatico in realtà, hai anche ragione. Non voglio stare qui un'altra notte. Beh, ci credo. Perché non chiamiamo la polizia? No, no, non lo capirebbero. Non capirebbero Tommy. Cioè, secondo me, se chiamarsero la polizia, tipo lo metterebbero in un laboratorio strano per fare tipo delle analisi, secondo me. Perché non è normale come cosa. Cioè, non è umano sicuramente. Non è tipo un alieno venuto da un altro mondo, una roba del genere. Perché se no, non mi spiego come possa essere possibile tutto a quella moschitudine. Non so, secondo voi, quali sono le vostre teorie a riguardo? Chi è Tommy? Che cos'è che ha? Perché io non capisco. Vabbè, comunque, hanno bloccato giustamente la stanza. Adesso dice che se ne escono. Ma come se ne escono se hanno bloccato la stanza? Punto di domanda. Non lo so questo. Però, insomma, lei è tutta quanta triste, preoccupata, non vuole nemmeno stare qua perché giustamente ha visto quello che le ha fatto Tommy. Non vuole che succeda di nuovo, giustamente. Eh, signora, dovrà farlo. Dovrà lasciarsi succhiare la spina dorsale, ok? Non rompa le scatole. Se non vuole chiamare la polizia, adesso si lascia succhiare la spina dorsale. Oh. Quali sono le altre opzioni, dice? Eh, potremmo andarci nel G, dice giustamente lui. Però dice no, dobbiamo aiutarla, non possiamo lasciarlo con questo pazzo da sola. Giustamente. Però, comunque, io... Lo bloccherei, tipo, Tommy. Tanto non si muove. Cioè, si muove solo di notte, non so perché c'è questa cosa. Cioè, potrebbero, tipo, legarlo e bastano. Potrebbe anche essere una soluzione quella. Magari poi dopo si arrabbia ancora di più, chi lo sa. Quindi, non so se è proprio un'idea proprio ottima. Comunque, sono le 12 e 17 di notte, quindi sarebbero le 00 e 17. Quindi, mezzanotte e 17. E sembra che Tommy stia, come al solito, sedendosi. Eh, però adesso... Ha intenzione sicuramente di fare qualcosa. Cosa sta facendo, peraltro? Non ho capito. Ha preso una tazza. Cos'era? La carne, probabilmente. Si stava mangiando di nuovo la carne. Chi lo sa? Vediamo perché... Oh no, aspettate un attimo. Mi sono spostato un attimo qui. Vedete? Lui è lì che sta osservando la telecamera. Oh mio Dio! Si è di nuovo seduto, porca puzzarda. Ma che caspita sta succedendo? Vabbè. Eh, qua... Sono le 2 di notte adesso. Vedete? Eh, cacchio. Tommy, non ti arrabbiare troppo, però. Perché... Se no, poi dopo urlo. Porca vacca! Io mi tolgo... No! Oh mio Dio! Avete visto? Mi sono cagato addosso! Oh mio Dio! Ma che paura! Mi sa che ha distrutto la telecamera, raga. Mi sa che l'ha completamente distrutta. Vedete? Questa telecamera non funziona più. È finita. Ninta. Zero. Vabbè. Adesso vediamo cosa succede alla signora. Perché purtroppo questa telecamera è stata distrutta. Adesso mi sa che Tommy verrà qui ad aprire la stanza della signora. Come fa praticamente ogni notte, secondo me. Vedete? Accidenti! Che paura! Mio Dio! No, no, no. Oh no! Mi sa che sta per distruggere di nuovo l'altra telecamera. Vedete? Vediamo. Eh, perché forse non è vero. Oh, porca vacca! Si è arrabbiato! Poverina! Mi dispiace! No, no, no. Mi dispiace! Svegliatevi! Aiutatela! Dice che qualcosa si sta rompendo. Eh, ma mi sa che è Tommy che si è arrabbiato perché gli hanno bloccato la porta. Accidenti! Che paura che ho! No, 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 no. Per favore, aiutatela! Prima che sia troppo tardi. Ma perché Tommy fa così? No, 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 no. Non ho traumatizzato. Io ho traumatizzato a vita, praticamente. Veloce, dice. La finestra! La finestra! La finestra! La finestra! La finestra! Oh, my God! Avete capito che caspita è successo? Tommy ha rapito la signora. E devono andare a trovarla di nuovo, a prenderla. Ma che cavolo, Tommy? Ma potevi fare un'altra cosa? Non so, potevi mangiarti una bistecca piuttosto che rapire la signora e andartene e scappare. Comunque, praticamente, l'abbiamo contattata su Facebook. No, la sorella della madre su Facebook. Quindi, la zia di Tommy. E, praticamente, abbiamo detto a Tommy che ha preso sua madre. Purtroppo. Lei ha detto che... Lei ci ha detto che Candace, la madre di Tommy, le ha detto a lei, quindi alla sorella, che Tommy era morto un anno fa. Probabilmente, quindi, insieme al padre. Quello, quindi, non era Tommy. Quello era un mostro, credo. Se ho capito bene. Non lo so. Scrivetemi voi cosa ne pensate di questa storia. È stato veramente traumatizzante e inquietante per me. Non immagino per voi. Scrivetemi nei commenti se volete che reagiamo ad altri di questi episodi. Se volete lo faccio. E se, soprattutto, questo canale non si arrabbia con me perché ho pubblicato questa reazione. Nel caso, scusate, non lo faccio più. Lasciate like, lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate quanto fa 7 più 14. Questo è più difficile.